allora eccoci qui con ciao buongiorno ciao amata allora eh siamo per parlare di mercurio signore dei gemelli e della vergine eh Michele è un astrologo di formazione discepoliana scuola barbolta anche se ovviamente con tutte le persone intelligenti è curioso e aperto a tutte le novità e le scuole di pensiero collabora con la mia accademia già da un po' e ci fa tutte quelle cose molto precise molto tecniche eh che sono poi la base di tutto il nostro discorso astrologico e oggi si è prestato a parlare del suo pianeta dominante perché eh lui stesso è dei gemelli insomma che dovresti conoscere bene come lo vivi questo mercurio che cos'è per te? Mercurio è per me fondamentalmente l'ho detto la curiosità eh la curiosità e l'uso del la voglia di esplorare no perché poi l'essere mercuriali in fin dei conti è l'essere curiosi e interfacciarsi col mondo perché mercurio nel nostro oroscopo in genere indica il modo la modalità attraverso la quale siamo curiosi esplorativi ci interfacciamo con il mondo e usiamo anche le nostre energie intellettuali quindi si tratta di cose che spesso vanno insieme la curiosità ci porta ad esplorare esplorare ci porta a scoprire scoprire ci porta a ragionare e quindi tutti questi fatti sono spesso concatenati e anche l'essere precisi in realtà mercurio non necessariamente indica precisione indica esattezza però eh spesso si associa all'elemento all'uso del raziocinio quindi della ragione e noi siamo tendenzialmente abituati nella ragione a vedere anche un certo rigore una certa logica però è anche vero che non sempre in un oroscopo mercurio può essere un mercurio logico ci sono persone che sono più intuitive fanno dei salti intuitivi persone che usano una logica più stringente io mi colloco un po' a metà strada diciamo che sono un intuitivo con strumenti razionali ecco questo beh voglio dire non è poco senti vogliamo un po' sfata il mito di mercurio peter pan cioè del mercurio pianeta che ci fa assaggiare tutto senza andare mai fino in fondo perché secondo me non è così eh neanche nei gemelli che è un segno un po' come dire svolazzante eh di per sé però secondo me eh l'intelligenza anche nel gemelli di mercurio eh sa andare a fondo delle cose sa sviscerare un argomento usa la razionalità il problema è che vuole approfondire tutto ecco quindi magari ai periodi no in cui divora un argomento poi dei periodi in cui ne divora un altro e sembra non fermarsi questo da un'idea di superficialità che in realtà secondo me non c'è tu cosa ne pensi? Allora eh sì una è un argomento è un argomento classico in effetti e ai gemelli associato a una certa superficialità allora c'è da dire che è vero da una parte che è voler esplorare tanto ci porta a non fermarci mai da nessuna parte e questo nel lungo termine può costituire un elemento di superficialità nel senso che poi non riesci mai ad andare a fondo delle cose però è anche vero che se una persona con forti caratteristiche mercuriali mettiamo anche un gemelli eh trova un campo di interesse che è abbastanza versatile che permette di creare delle interconnessioni multidisciplinari per esempio eh allora lì la sua curiosità la sua voglia di espansione viene però incanalata dentro la possibilità di fare un approfondimento è il caso dell'astrologia no? L'astrologia è la disciplina che ovviamente offre un mercuriale la possibilità di espandersi in numerosi campi nel campo dell'astronomia nell'astronomia di posizione se vogliamo essere più tecnico matematici della psicologia del profondo se vogliamo andare nel significato psicologico degli archetipi nella mitologia nella storia perfino nella storia dell'arte in certi casi e e quindi è una disciplina che di per sé è multidisciplinare e multifattoriale e lì un mercuriale riesce molto bene perché riesce a tenere insieme molti mondi diversi e ad avere anche la elasticità mentale e la rapidità di apprendimento per poter incorporare tutte queste conoscenze. È ovvio che poi se abbiamo una persona che ha poche risorse intellettuali cioè non particolarmente intelligente non particolarmente versatile le caratteristiche mercuriali si trasformano subito in superficialità cioè mercuriale involuto solitamente chi è il pettegolo quello che ride stupidamente di qualsiasi cosa quello che non si impegna mai seriamente che non assume mai una posizione che è sempre un po' si può dire una parolaccia un po' paracolo no? Cerca sempre di di cadere in piedi ma quello è un livello diciamo di mercurialità più involuta. Invece la mercurialità evoluta contiene moltissime risorse intellettuali ed è e quindi non corre il rischio della superficialità a patto che si incanali in un campo che a seconda la natura mercuriale è ovvio che se uno vuole essere un mercuriale curioso ed espansivo e si addentra in una disciplina molto monolitica molto grigia molto rigida molto settoriale e allora lì fa più fatica perché subentra la noia la noia che manca quella continua stimolazione che tiene vivo il mercuriale mercurio e associato era chiamato l'argento vivo ed era associato a questo pianeta in rapido movimento proprio perché l'idea di qualcosa di rapido di dinamico che sfugge alla cattura no il mercurio ci sfugge se cerchiamo di toccarlo e quindi simbolicamente era associato anche al messaggero degli dei al metallo associato al messaggero degli dei che rapidamente manda le informazioni dall'olimpo dove devono arrivare e quindi quindi sì la cosa altro volevo aggiungere su questo secondo me effettivamente le caratteristiche mercuriali nel mondo di oggi sono caratteristiche estremamente utili cioè penso che nel mondo di oggi per connesso dove richiesta capacità di programmazione di competenze informatiche molto estese solitamente le persone mercuriali in grado di interfacciarsi molto in un mondo multidimensionale come quelli in cui viviamo sono avvantaggiate si hanno una buona tenuta dell'intelligenza perché il nostro è un mondo molto mercuriale e uraniano insieme diciamo ecco infatti guarda mi rilascio a tutte le cose che hai detto per due spunti che mi hai fatto venire in mente allora il primo è che secondo me ogni pianeta può avere una sua manifestazione involuta eh o eh evoluta a seconda della persona del periodo storico del soggetto dell'educazione che noi riceve siamo a venere no? Venere può essere la scivia può essere il desiderio di lusso smutato come può essere la ricerca della bellezza della parte nei sentimenti eh la la diplomazia l'eleganza di modi no? Ecco quindi adesso non farò tutti i dieci pianeti così però è chiaro che poi a seconda della persona si può vivere ogni pianeta in modo brillante o un po' opaco ecco a seconda di questo e una domanda che ti faccio secondo te internet è più mercurio più urano? Allora internet la risposta è abbastanza semplice in realtà l'ha data André Barbò per me quindi io eh io riferisco Ubi Maio esatto André Barbò dice fa un'associazione molto cristallina e cioè l'associa alla grande congiunzione urano lettuno del credo del novantaquattro eh fondamentalmente la nascita di internet come World Wide Web come rete mondiale che ricollega tutti i computer e non come la rete militare nata negli anni settanta l'Arpanet eccetera ma la rete che viene pubblicata e che diventa immediatamente la piattaforma dove si condivide la conoscenza le informazioni eccetera i contenuti nasce in quel periodo lì con la congiunzione urano nettuno eh in Capricorno credo eh questa congiunzione è stata fondamentale per questo perché urano rappresenta l'innovazione e la tecnologia nettuno le grandi masse le folle interconnesse da questa tecnologia quindi io direi che la tecnologia di internet la tecnologia di internet è chiaramente data da una componente uraniana e nettuniana insieme perché si espande e perché è performativa e tecnologica e innovativa ma il funzionamento di internet è mercuriale perché è fatto di reti interconnesse e le reti interconnesse sono una funzione mercuriale cioè senza dubbio e è chiaro che in astrologia mondiale noi eh quando vediamo l'inizio dei fenomeni lo associamo a dei grandi cicli di pianeti lenti o lentissimi quindi giove nettuno urano eccetera però è anche vero che nel caso del funzionamento delle cose beh la natura dei pianeti rapidi spesso contiene informazioni sul funzionamento di tante cose e il caso di di urano scusami di mercurio è proprio lampante per internet internet funziona come reti connessioni eh all'inizio di internet si diceva degli ipertesti no? La struttura ipertestuale. Io da estremamente ceo tu forse io un ragazzino. Andavo al liceo andavo al liceo quindi la sigla HTTP era proprio l'idea dell'iper testo no? E quindi eh l'iper testo cos'è? Un testo iperconnesso che si collega ad altri contenuti ed è una questa è una qualità mercurialissima cioè sfido chiunque ad affermare il contrario. Certo. Per esempio in un oroscopo di nascita nel tema natale di qualcuno se io vedo una congiunzione un trigono un sestile un quadrato mercurio urano e beh sicuramente lì siamo di fronte a un'intelligenza iperconnessa oltre che ipermoderna perché è chiaro che lì eh la componente innovativa di urano si associa con la componente connettiva direi con la rapidità mercuriale poi alla fine urano e mercurio sono due astri veloci negli effetti diciamo così quindi sì e anche collegati comunque dal fatto di parlare di movimento di nervosismo eh di raziocinio eh no di di schemi anche quindi assolutamente sì c'erano sicuramente una affinità eh sai una cosa quando io mi sono connessa di internet la primissima volta della mia vita con quei moduli modem che facciano quelli che ronzavano che ronzavano eccetera esplorai un po' per la prima volta questo universo e la cosa che mi venne da dire è che questo mi sembrano le pagine gialle dell'universo perché secondo me l'effetto della grande quantità di informazioni all'inizio prevaleva un po' sull'idea di internet come connessione di individui cioè tu andavi e trovavi non so che la biblioteca aveva messo le sue cose online che l'azienda che ti interessava aveva il sito potevi contattarla no quindi alla fine era un po' come mettere a disposizione una quantità di dati notizie strumenti che tu prima non avevi quindi ti dirò che secondo me l'inizio è stato in realtà molto mercuriale è stato poi con l'arrivo dei social che è diventata anche una connessione di persone il ritrovarsi i blog dove tutti stiamo a discutere dello stesso argomento i social dove trovi pure il compagno degli elementari ecco lì allora si affattarete ma nel senso di io conosco cinquemila persone su facebook e sono amici virtuali certo mai conosciuti nella realtà con cui dibatto mi scambio robe ok quindi secondo me questo è stato un passaggio forse successivo ma in realtà è anche lì mercurio da una parte mercurio è associato anche un atteggiamento enciclopedico sicuramente quindi inizialmente internet era l'enciclopedia dove tu puoi contenere tutto e poi mercurio associato ai rapporti tra le persone non quelli l'amicizia il matrimonio ma quelli a volte anche superficiali di conoscenza come spesso i social ci portano a fare abbiamo cinquemila amici virtuali di cui ne conosciamo fisicamente una decina una ventina quando va bene però quindi questo tipo di interconnessione è una interconnessione tipicamente mercuriale tra l'altro i mercuriali in questo tipo di interazioni sono molto facilitati perché sono in grado di fare rapidamente conoscenza senza porsi subito il problema dell'approfondire la conoscenza ma semplicemente gettando i semi delle relazioni questa è una cosa che i mercuriali sanno fare molto bene per esempio anche perché il mercuriale ha un'intelligenza per la quale sa distinguere l'amico del cuore che è quello con cui ti vai a fare la bevuta e ti sfoghi dei tuoi problemi certo e il contatto utile per il lavoro per i tuoi hobby i tuoi interessi cioè qualcosa di più mondano sociale che però sai come si dice a Roma no anche la regina ha bisogno della vicina ah certo il piccolo supporto il consiglio l'indirizzo giusto ecco mercurio è molto capace di discernere gestire bene anche rapporti non affettivi esatto ma è molto vera e mi sta facendo pensare anche quando spesso si dice dei gemelli o in generale anche dei mercuriali che sono opportunisti no ma in realtà l'arte del cogliere l'opportunità e l'arte di cogliere l'attimo è proprio una qualità mercuriale anche uraniana ma l'idea del correre e cogliere l'istante ma anche cogliere la qualità che in quell'istante mi serve cioè se io ho bisogno di un'informazione so chi può darmela quella è una capacità estremamente adattiva se invece io devo fare sempre riferimento su me stesso sono sconnesso dal mondo invece da questo punto di vista i mercuriali sono molto a loro agio e sanno avvantaggiarsi delle relazioni anche lì poi è ovvio che è un problema di evoluzione cioè mercuriale involuto è un cinico manipolatore anche un po' goffo in certi casi mercuriale evoluto è una persona raffinata che conosce l'arte delle pubbliche relazioni chiaro assolutamente sì ma infatti guarda nella mia esperienza ho visto che le persone che lavorano nelle agenzie di PR hanno sempre un ottimo mercurio a volte a scapito di una buona venere che eppure sarebbe no la mondanità l'accordo tra persone la collaborazione però in realtà anche quel pizzico diciamolo di cinismo un po' freddo che a volte mercurio può avere certo è utile perché poi nella vita ci sono rapporti basati sul tu mi servi per questo io ti servo per quello no ci siamo lavorativo spesso è così sapere utilizzare questo tipo di interazione in modo proficuo a livello lavorativo è fondamentale spesso è troppo accomodante per esempio cerca sempre di creare un ambiente un va bene non va bene sempre questo dipende dalle situazioni anche nell'ambito della comunicazione marketing per esempio il marketing è chiaro che una comunicazione persuasiva manipolativa è evidente funziona per quello e proprio lì ci vogliono le caratteristiche migliori di mercurio saper usare gli strumenti della comunicazione per ottenere un fine ma è ovvio che un venusiano accomodante e amabile piacevole tenderà a non voler utilizzare determinati strumenti però magari utilizzerà la seduzione per esempio ah perché no certo sì sì cioè una forma di manipolazione differente cioè quindi molte volte oppure un gioviale utilizzerà il potere per ottenere i propri scopi cioè a volte il problema è che si culturalmente si tende a caricare negativamente alcune caratteristiche e altri e a diciamo sopravvalutare degli altri aspetti poi in realtà ognuno in base alla propria dominante planetaria usa delle modalità preferenziali per adattarsi al mondo per farsi strada per per avere delle opportunità assolutamente senti però eh mercurio secondo me gioca ruolo importante anche in amore perché alla fine mercurio ha la capacità di comunicare no ora eh è sempre un po' bistrattato da questo punto di vista il povero mercurio no perché lo si guarda per la firma dei contratti il superamento di esami eh ecco appunto i rapporti sociali la velocità di pensiero e nessuno lo prende mai molto in considerazione quando si tratta di andare a vedere la parte amorosa di un tema eh oggi che i rapporti eh insomma grazie a Dio non sono più tutti sposi quello perché tuo padre ha deciso così c'è un'esigenza profonda di comunicazione col partner no? Eh e quindi mercurio gioca nella capacità di portare avanti una relazione a lungo termine a mio avviso ruolo assolutamente fondamentale anche perché come si dice Venere e Marte ad un certo punto un po' esauiscono la loro spinta soprattutto quando una coppia a venti trent'anni di vita insieme è sopraggiunta alla terza età insomma quindi eh la la sensualità viene un po' meno quello che rimane è proprio la capacità di comunicare di raccontarsi di stimolarsi no? Il mercurio è quello che sopravvive al ruolo di tutto il resto. Certo. Ecco e che cosa vogliamo dire a chi ci ascolta del ruolo di mercurio in amore? Eh questo è sicuramente un un concetto chiave perché tutte le relazioni nascono nella comunicazione e sono mantenute o distrutte dalla comunicazione quindi sia le relazioni amicali, genitoriali, ehm tutti i tipi di relazioni compresa quella amorosa sono ehm possono essere favorite ostacolate da una buona o una cattiva comunicazione. Molti problemi di coppia nascono perché non si comunica un bisogno, non si comunica bene, anche nascono perché si comunica talmente male che si è sempre conflittuali e oppure potremmo anche dire che spesso nel modo in cui il partner comunica nei nostri confronti possiamo capire come sta andando la relazione, possiamo capire dove stiamo andando, possiamo capire anche se ci piace stare con quella persona. Cioè in realtà il punto è proprio questo. Culturalmente tendiamo molto a dare grande importanza alla parte erotica, sensuale, romantica della relazione che diciamo in effetti è la miccia che innesca le relazioni e che sicuramente è qualcosa che può anche cambiare nel tempo, però c'è una parte nelle relazioni quelle durature e c'è una parte che quella comunicativa che invece è qualcosa che ci attraversa tutto il giorno. Quando si vive nella stessa casa, si condividono degli obiettivi, si hanno dei figli o si si collabora su dei progetti, cioè alla fine quello che poi effettivamente contribuisce a creare un clima, un'atmosfera è la qualità della comunicazione. Anche la comunicazione che passa per il corpo, che passa per l'interazione fisica, la distanza fisica, gli abbracci, tutto ciò che è affettività espressa a livello prossemico, però c'è una una vicinanza che si può esprimere solo con le parole e essere in grado di comunicare è importante. Anche i sentimenti, per esempio, cioè nelle coppie a volte non si comunicano i propri sentimenti. Avere un blocco nella capacità di comunicare i propri sentimenti può essere una spia di qualcosa che non va nella nell'interazione di coppia. Questa cosa qui è proprio importantissima e per questo io sono molto d'accordo che quando guardiamo un'affinità di coppie in astrologia, confrontiamo due microscopi. Beh, guardare anche non solo Venere e Marte come interagiscono, perché quello è importante, ma guardare anche per esempio le interazioni dei Mercurio reciproci o dei pianeti dell'uno sul Mercurio dell'altro, beh, questo può essere un indicatore importante per capire come si parla in quella coppia e anche per capire come magari le azioni dell'uno ostacolano la comunicazione dell'altro o al contrario la favoriscono. Quindi sì. Sì. Io quando faccio consulti mi accorgo che poi eh nel momento in cui si va ad indagare eh il classico silenzio in famiglia no? Il mangiare insieme dicendosi solo passami il sale eh c'è sempre un mercurio che in quel momento sta subendo magari qualche transito negativo o che nella sinastria è effettivamente un po' disgraziato nella sua forma no? Sì. Perché lì vuol dire sì ci amiamo, ci piacciamo eh c'è tanto calore bianco fra noi eh però poi eh se dobbiamo confrontarci decidere insieme trovare una via comune e tra l'altro un mercurio leso in una coppia o anche nel singolo che magari non riesce a esprimersi approfonditamente è il padre della famosa polvere sotto il tappeto no? Sì. Le coppie mettono, 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 fin tanto che poi arriva un punto che è diventata una montagna e ci inciampi in modo clamoroso. Quindi un appello a tutti gli astrologi, a tutti gli appassionati. Quando vi occupate di amore guardate anche il mercurio. Assolutamente. È importantissimo. Un'altra cosa che vorrei eh dire a chi ci ascolta è che mercurio è fondamentale nei contratti. Tante volte uno dice ma l'astrologia mi potrà dire se mi assumono eh se mi rinnovano il contratto, se passo il concorso e e così via. Anche nei matrimoni eh a volte alla fine è sempre una stipula di un' associazione. Quindi un buon mercurio contribuisce a facilitare un percorso eh di di matrimonio, di convivenza, comunque in cui il patto tra le persone diventi evidente. Eh quindi mercurio ci racconta tanto di noi perché ecco mh quando è che firmiamo alle poste questo mitico posto fisso eh piuttosto che ma sto muto di casa lo firmo o non lo firmo? Ecco sono quelle domande a cui in genere mercurio dà sempre una risposta vero? Quando si fa poi previsionale. Sì diciamo che è un fattore che va poi visto nel contesto però è vero che mercurio poi può essere un indicatore guardandolo nell'oroscopo per esempio di tutti quei momenti in cui ehm avviene si scrive qualcosa, avviene una scrittura. Ok? Quindi mercurio è associato allo scrivere e quindi indirettamente viene associato anche a tutto ciò che si scrive, si firma, eh si formalizza. Certo. E se è sottoposta dai transiti importanti eh o anche meno importanti che magari per esempio stiamo facendo un iter per la realizzazione di un progetto. Questo iter è arrivato a un certo punto di ideazione però il momento in cui cominciamo a scrivere e a mettere nero su bianco ed eventualmente anche lo consegniamo a chi lo spediamo a chi lo deve eh attuare, deve pubblicare eccetera, magari nel momento in cui proprio mercurio è sottoposto a dei passaggi importanti. Certo. Questo è questo è significativo. Il valore che ha mercurio in tante operazioni che noi facciamo legate alla scrittura, che sia al computer, che sia a mano, che sia perfino il disegno, che mercurio non è secondario neanche nelle nelle attività grafiche, anzi, spesso è molto importante, eh sono attività che sono innescate da un da dei passaggi sul mercurio di nascita. Quindi la firma di un contratto se si associa anche a dei passaggi relativi alla settima casa, che è il settore relativo ai contratti, è accidenti, sì, è qualcosa che può avere assolutamente un suo peso. Assolutamente sì. Quindi sì, eh mercurio poi vabbè poi si associa anche a tante altre cose, ai trasporti, agli spostamenti, ai viaggi, all'uso al pendolarismo, all'uso dell'automobile, insomma. Vero, no ma infatti guarda, ci tenevo molto che venisse così bene come sta venendo questo incontro sul mercurio, perché pure no, è un po' calimero, pulcino piccolo e nero dell'astrologia, ma tutti presi da Plutone e l'inconscio e poi ti scordi che Mercurio ci racconta tante cose della nostra vita. Guarda, ti posso dire, secondo me, qual è il grande errore che fanno oggi molti astrologi, sia principianti, amatori, e quindi è un errore veniale, diciamo, un errore che possiamo scusare per inesperienza, ma anche quello che fanno molti professionisti a volte, è quello di essere troppo proiettati su cose grandiose, ma sul non tenere, quindi l'inconscio è grandioso, perché è immenso, è sterminato, ma è anche su una certa voglia di conoscenza che vada oltre il mondo sensibile, però si dimentica sempre che in un oroscopo le cose più importanti ci vengono dette dai pianeti cosiddetti rapidi, e cioè dai pianeti personali. Che cosa caratterizza di più la nascita di una persona se non ciò che è rapido, che dura poco e che fotografa l'istante? Cioè alla fine in un oroscopo l'ascendente, il sole, la luna, Mercurio, sono posizioni straordinarie per capire già tantissimo di quell'oroscopo, per capire anche tantissimo dell'inconscio di una persona, e invece magari a volte ci soffermiamo a studiare Plutone, a studiare un pianeta sul quale tra l'altro c'è una tradizione ancora molto breve perché è stato scoperto nel 1930, neanche cent'anni fa, e si è cominciato a studiarlo in astrologia, credo negli anni settanta, non credo molto prima. Sì perché le effemeridi sono state pubblicate per la prima volta negli anni settanta, proprio negli USA, quindi chiaramente... Parliamo di cinquant'anni di studi su Plutone, immaginiamo invece su Mercurio dove si sono già espressi i babilonesi probabilmente, gli egizi, poi gli arabi e poi i romani eccetera, quindi c'è una grande tradizione su questi pianeti rapidi che sono pianeti caratterizzanti, quindi l'esortazione che faccio veramente a tutti gli astrologi pro e dilettanti, studiate i fondamentali, studiate i pianeti rapidi, approfonditeli perché c'è tutto, cioè in Mercurio puoi avere una montagna di informazioni, tra l'altro lo studio di Mercurio è forse facilitato rispetto a tutti gli altri astri perché ci toglie dall'assilo degli aspetti. Mercurio di per sé non dista più di 28 gradi dal sole, quindi con il sole può formare solo una congiunzione. Per questo Mercurio può solo ricevere aspetti o formare aspetti con altri colpi celesti tranne che col sole e questo ci permette già di fare delle osservazioni interessanti per esempio e cioè quanto più Mercurio è vicino al sole tanto più possiamo fare delle considerazioni su quanto mercuriale è quella persona e tutti in qualche misura lo saremo perché Mercurio non sarà mai troppo lontano dal sole. Potrà essere molto vicino, potrà essere entro i quindici gradi, potrà essere un po' oltre, entro i ventotto, ma non troppo oltre. Quindi potremmo capire in che misura Mercurio interferisce o influisce sulla nostra persona e questo ci caratterizza molto. Quindi studiare i fondamentali sempre. Ma certo, anzi poi ti guarda, concluderei visto questa tua bellissima presentazione dicendo una cosa, no? Ok, sì, l'incroscio Plutone, bellissimo. Ah, vai in analisi perché devi scavare dentro di te, bellissimo. L'analisi si fa con la parola. Certo. Si fa comunicando. Se non hai un buon Mercurio o dei buoni passaggi su Mercurio, puoi andare anche da Freud o da Jung in persona, ma tu non riuscirai a mettere in parola ciò che senti. Sono d'accordo. Infatti penso che l'analisi non sia l'unico percorso. Le persone che hanno difficoltà comunicative, ci sono persone che hanno molta difficoltà a parlare in pubblico, a esprimere quello che pensano o usano poche parole, per esempio, quando si esprimono. Magari possono dover percorrere altre strade per conoscere se stessi. Magari strade più fisiche, un tipo di approccio psicoterapeutico di tipo diverso, non così dialogato. Magari c'è la c'è per esempio la bioenergetica, di Lowen, scusami. Cioè ci sono altri approcci perché in effetti è vero, l'analisi è un percorso molto che passa attraverso una forte componente comunicativa, dialogica, verbale. C'è molta verbalizzazione e questa cosa può essere un ostacolo per alcune persone poco abituate a parlare, a comunicare e quindi magari ci sono percorsi più immaginativi, più legati ad altri tipi di esperienze personali, perché appunto l'inconscio si può esprimere in tanti modi. Tra l'altro, proprio uno dei modi più curiosi attraverso cui si esprime l'inconscio sono i lapsus calami, i lapsus lingue, i lapsus mercuriali, di cui Freud ci parla nella psicopatologia della vita quotidiana. Quindi in realtà la terapia della parola ci indica anche come la parola possa, nei buchi, far tarapelare ciò che si muove dentro di noi. Esatto. Il linguaggio può essere un grande rivelatore, d'altronde Lacan per esempio è stato un grande studioso di questo aspetto dell'influsso del linguaggio nella manifestazione dell'inconscio. Quindi anche lì non dimentichiamoci che appunto la chiave d'accesso, come hai detto giustamente, è proprio quella lì, è proprio quella verbale, mercuriale. Se siamo di quel tipo, se abbiamo un mercurio che fa il suo dovere diciamo. Che fa il suo dovere? Guarda, ho fatto un consulto ad una signora che ha adottato una bimba, che credo viene da un paese slavo, adesso non ricordo quale, e mi ha raccontato di tutte le difficoltà di questa bambina, lei non capisce perché comunque non si senta ancora a casa nonostante gli anni e tutto. Io le ho detto ma tu lei mi ha chiesto in che lingua sogna? Lei lo ha fatto e mi ha detto e lei sogna ancora nella sua lingua. Dico, vedi, lei si sente ancora di là. Perché la lingua madre è un qualcosa che forma la nostra identità. Non è solo il modo in cui noi diciamo grazie prego, è il modo in cui amiamo, è il modo in cui preghiamo, in cui ci rivolgiamo alle persone che abbiamo vicine per chiedere aiuto, per dimostrare affetto, per imparare. La lingua è una parte fondante di noi stessi e finché lei non non avrà ormai introiettato la nostra lingua tanto quanto quella natale, lei si sentirà sempre spaccata a metà, perché la lingua è identità, la parola è identità e in questo senso mi ricongiungo a tutto quello che hai detto fino ad adesso. Bene, io guarda, ti ringrazio, penso che andranno tutti a comprare libri su Mercurio domani mattina e si saranno tutti molto incuriositi. Ti ringrazio tantissimo, ti mando un bacio, ti abbraccio e ci aggiorniamo presto. Ok, ciao Michele, grazie a te, grazie a tutti. Ciao, ciao, ciao.